Ma tu non sono umano, spontaneo. Ah sì? Allora sai che ti dico il bello? Forza Lazio! Ormai la voglia di giocare è dilagata in tutto il deserto. Tocca a voi adesso divertirvi, perché siete i tre finalisti della fattoria! Clemente, Rosario o Justine? Vota il vincitore. Telefona all'16476 o manda un sms al 48244. La fattoria, tutta un'altra favola. Sabato alle 21 su Canale 5. Speruna finale, pazzesca ciao! Vuoi vedere i contadini della fattoria in Marocco? Solo su Mediaset Premium. Manium power. I am explosive. I'm a predator. I am superwoman. I'm curious. I am serious. I am primitive. I'm in terms. Are you? Yes, I am. Manium. Da Alcida. Il cinema delle arti marziali. I'azione più spettacolari sull'arte secolare del Kung Fu. Il cinema delle arti marziali. In edicola terremoto nel Bronx. Con il grande Jackie Chan. Il cinema delle arti marziali. Qualunque sia il tuo progetto, se lo puoi realizzare subito è meglio. Per questo c'è prestintesa. Fino a 75.000 euro in solo 48 ore. Banca Intesa. Se è meglio per te, è meglio per noi. C'ho qui un paziente che c'ha la masticazione da puledro. Hai un consiglio da darmi? Non ti preoccupare, c'ho Wind 5. Posso parlare quanto voglio. Con Wind 5 parli con tutti a 5 centesimi al minuto, anche per ricaricarli. Da Wind 5 parli con tutti a 5 centesimi al minuto. Da Wind. Blade è tornato ed è pronto per la battaglia finale. Wesley Snipes in Blade Trinity. Azione ed effetti speciali straordinari nel terzo capitolo della vincente saga del Diuro. Blade Trinity. In edicola in prima visione. Con DVD Magazine. Da Edizioni Master. Il successo di Astra non si ferma mai. Oggi con un equipaggiamento senza confronti. Nuova Astra Twinport da 14.950 euro. Più finanziamento. E con l'operazione Grande Prova. Solo Opel ti offre un test drive fino a tre giorni. Buongiorno regolarità. Fibress, il buon latte con fibre naturali, ti aiuta ad avere un intestino puntuale come un orologio. da Parmalat. E' un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Sabrina Ferilli è Dalida, a maggio, su Canale 5. Ma è possibile che io fermi a mo...